Per vedere il passaggio, per vedere le difficoltà e arrivare da novembre in una situazione difficile in una squadra difficoltà come l'Ingland, è molto, molto difficile. Penso che per ottenere un giocatore in la Champions League dovrei considerare questo un davvero grande ragazzo per me e per i miei giocatori. E anche il club, credo, considera questo un grande ragazzo. Il giocatore troppo, e credo che potrebbe scorrere più. Ma, allo stesso tempo, voglio raccontare il grande esforzo che il team ha fatto per Sony. E per vedere questo, per me, ho davvero appreciato il giocatore, il deciso di aiutare il team per i miei giocatori. Sì, eravamo buoni per migliorare oggi questi due target. Per ottenere un giocatore in la Champions League e poi per aiutare Sony a vincere il giocatore. Beh, questo è un giocatore in il giocatore molto più veloci di tutti.